allora la giornata è finita le sorelle le le sorelle bandiera cioè a piavanti piavanti e quale sono se sorprese piavanti quale sono se sorprese delle novità ci saranno ma quale sono se sorprese delle news ma chi con loro delle news è troppo bella sono ancora in video novità novità allora ragazzi hanno delle novità per voi loro tre voi nelle migliori reddi e chi delle migliori va bene ragazzi io mi concedo da questa giornata meravigliosa vabbè saluta signora santa arrivederci vediamo domani mattina alle nove scetto come no la mia ex moglie ciao amore mi raccomando a croci noi ci ricordiamo i vecchi tempi se stanno parando ma che stanno dicendo salutate mi sfottono mi sfottono mi sfottono vabbè va su pazzi